I carabinieri della compagnia di Torre Annunziata, nell'ambito dei servizi disposti dal comando provinciale di Napoli, hanno effettuato un servizio ad alto impatto in città. Posti di controllo rafforzati e diverse perquisizioni nel rione di edilizia popolare Parco Trento, noto per la tragica morte di Matilde Sorrentino. I carabinieri della compagnia Oplontina sono stati affiancati dai militari del reggimento Campania, dal nucleo Cinofili, dal nucleo carabinieri elicotteristi di Ponte Cagnano e dai Vigili del Fuoco, questi ultimi impegnati per la rimozione degli ostacoli fissi. 86 persone identificate e 57 veicoli controllati, 8 di questi sono stati sequestrati. Durante le operazioni finito in manette per detenzione di droga a fili di spaccio, Salvatore Gallo, venturene del posto, già noto alle forze dell'ordine. I carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 37 grammi di marijuana, vario materiale per il confezionamento dello stupefacente, un bilancino di precisione e tre colteri a serramanico. La droga era all'interno di una cantina ma non è stato semplice trovarla. La chiave del nascondiglio era infatti all'interno dell'abitazione del ventunenne e non apriva alcuna porta. I militari hanno setacciato tutti i locali del piano terra ad uno ad uno fino a quando quella chiave non ha aperto la serratura della cantina utilizzata dal ragazzo che è stato tradotto al carcere in attesa di giudizio. Il servizio antidroga è continuato con il rinvenimento e sequestro di un sistema di videosorveglianza abusivo. Quattro le micro telecamere sequestrate che erano state posizionate nell'impianto della corrente elettrica esterna che perimetra il palazzo sorvegliando così l'intera area. I carabinieri hanno appurato che la diretta poteva essere vista e registrata da un dispositivo nascosto sul tetto del civico 39 dove l'eventuale vedetta si posizionava. L'invenuta è sequestrata in un'area comune una pistola replica marca Bruni calibro 8 modificata e priva di tappo rosso con 45 proiettili a sabve dello stesso calibro. I carabinieri insieme al personale dell'Agenzia dei Monopoli di Stato hanno controllato quattro sale scommesse a Via Vittorio Veneto identificando tutti i presenti. Sanzionata un'attività perché trovata in difetto della prevista documentazione autorizzativa relativa agli apparecchi di intrattenimento, i vi presenti e alla somministrazione di bevande e alimenti.